Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a vedere proprio le basi del mercato delle criptovalute. Per chiunque si voglia approcciare, la prima cosa da fare sicuramente, sia per chi è esperto sia per chi non lo è, è consultare il sito CoinMarketCap. Eccolo qua, proprio questo. Quindi andate su coinmarketcap.com, questa sarà la pagina che si aprirà ed è così che si presenta il sito. Questo sito è fondamentale per tutti, proprio perché elenca tutte le criptovalute possibili, quindi le 1381 cripto che ci sono ad oggi, riporta i dati della market capitalization totale, quindi del valore complessivo di tutte le criptovalute messe insieme, che ad oggi è 657 miliardi 119 milioni 916 mila 822 dollari, il volume che appunto nelle ultime 24 ore è di più di 48 miliardi di euro e di più di 48 miliardi di dollari, e la percentuale di dominanza del Bitcoin, quindi la BTC dominance significa che in tutta questa cifra, quindi nei 657 miliardi eccetera, il Bitcoin vale per il 35,9%. Sotto si presenta appunto tutta la lista ordinata per capitalizzazione, quindi partiamo dal Bitcoin, che è la cripto con la maggiore capitalizzazione di tutte, poi in seconda posizione abbiamo Ripple, segue Ethereum e così via. Sulla seconda colonna troviamo appunto Price, quindi il prezzo unitario per ogni Bitcoin, 14 mila dollari, dopodiché il volume nell'ultime 24 ore, ovvero 18 miliardi 717 milioni di dollari, circulating supply sarebbero quanti Bitcoin sono stati minati, quanti Bitcoin ci sono a disposizione in giro, cioè 16 milioni, il cambio nell'ultime 24 ore, quindi rispetto a ieri a questa ora, il Bitcoin è salito del 4,61%, e poi qui abbiamo un semplice grafico a linea degli ultimi 7 giorni. Questo sito è molto importante anche per sapere dove acquistare magari la criptovaluta alla quale ci stiamo interessando. Se ad esempio cercate una criptovaluta in particolare e non sapete magari qual è la sigla del suo token, ad esempio cercate Cardano e volete sapere dove acquistare Cardano e come si chiama il token di Cardano, ecco il token di Cardano si chiama ADA e se noi andiamo a cercare Cardano scrivendolo qui ci appare appunto sotto Cardano tra parentesi ADA, se ci clicchiamo si apre la pagina specifica di questa criptovaluta e del suo progetto e quindi vediamo il prezzo di 0,76 dollari per token rispetto a ieri è aumentata del 10,94%, il prezzo in Bitcoin e rispetto al Bitcoin ieri è aumentata del 5,17%. Vengono poi ovviamente riportati gli stessi dati che abbiamo visto prima, la capitalizzazione totale, il volume, quante ADA ci sono in circolazione, quanti potranno essere in totale e al massimo. Se scendiamo sotto vediamo il grafico a linea di ADA, un grafico composto da tre linee, passandoci sopra col mouse vedete che scorre l'arco temporale e ovviamente si aggiornano anche di conseguenza i dati e avete questa piccola finestrella con la leggenda. La linea azzurra riguarda la capitalizzazione, la linea verde è il prezzo riferito in dollari e la linea arancione è il prezzo riferito in Bitcoin. Qui sotto avete il grafico ad istogramma che rappresenta il volume. Questo grafico ora è impostato sul time frame all, quindi dall'inizio alla fine del token prende il grafico. Se a voi interessa sapere nell'ultimo mese, basterà cliccare su 1M, quindi 1 month, e vi farà vedere il grafico nell'ultimo mese. Oppure qui sotto selezionate voi cosa e quanti e che periodo insomma deve includere il grafico. Come dicevamo, cliccando quindi, prima eravamo su charts, cliccando su markets, appare la lista di tutti gli exchange sulla quale è possibile acquistare e vendere il token ADA. Quindi per ogni criptovaluta potrebbero esserci exchange diversi. In questo caso vediamo che ADA è scambiato sull'exchange Binance, Bittrex, CoinNest, Gate e MrExchange. Vediamo che su Binance ad esempio è scambiato due volte perché è scambiato sia nei confronti del Bitcoin, sia nei confronti dell'Ethereum. Su Bittrex si può scambiare nei confronti del Bitcoin, nei confronti dell'Ethereum e anche nei confronti del dollaro Tether, quindi USDT. Importante quando tra virgolette scegliete su quale exchange andare ad acquistare quel token, nel caso in cui non siete iscritti quindi a nessuno di questi exchange e che dovete iscrivervi da nuovo, è importante guardare il volume perché se vi iscrivete ad esempio su un exchange come può essere MrExchange che ha avuto un volume nell'ultimo 24 ore di scambio per quanto riguarda ADA nei confronti del Bitcoin di soli 24.000 dollari, c'è il rischio che il vostro ordine magari stia un po' in attesa e non venga eseguito subito. Viceversa ovviamente su un exchange come Binance dove il cambio ADA Bitcoin ha avuto solo nell'ultime 24 ore un volume 98 milioni e rotti di dollari sicuramente il vostro ordine verrà eseguito in maniera molto più veloce. Ci saranno sicuramente più persone disposte a venderlo e ci saranno più persone poi disposte ad acquistare ADA nel momento in cui voi vogliate venderli. Di conseguenza iscrivetevi sempre agli exchange diciamo maggiori. Altre informazioni molto importanti che potete reperire sempre da questo sito ovviamente sono Website nel caso in cui voi vogliate effettivamente acquistare ADA è molto importante che voi sappiate di cosa si occupa ADA per cui cliccate su Website si aprirà il sito ufficiale di Cardano e quindi lì potete prendere tutte le informazioni sulla mission, sul white paper su quale problema la tecnologia va a risolvere come la risolve, qual è il team, qual è la roadmap e quindi solo dopo essere venuti a conoscenza di tutti questi dati potete avere un'idea, potete farvi un'idea giusta e quindi decidere effettivamente se investire su Cardano e quindi acquistare il token ADA o me oppure no. Qui poi avete anche Announcement Explorer che sono sempre tutte pagine del sito che parlano di cose diverse possono essere magari vi fa vedere come sta andando la blockchain le transazioni sulla blockchain gli annunci per quanto riguarda la politica monetaria il forum, il codice sorgente insomma tutte informazioni che sicuramente dovranno essere spulciate prima di poter effettivamente entrare al mercato se andate qua sotto, quindi prima abbiamo visto charts il grafico, market, dove acquistarlo social, avete qui un piccolo recap degli ultimi tweet fatti dalla Cardano Foundation o comunque da anche altre persone che sono legate o meno o perlomeno taggano ADA nei loro post e quindi potete essere informati su indiscrezioni news, partnership insomma tutto un po' il mondo social informativo che riguarda ADA lo ritrovate riassunto qui se andate su storical data invece troverete il prezzo di apertura il prezzo massimo il prezzo minimo e il prezzo di chiusura di ADA il primo gennaio del 2018 il 31 dicembre del 2017 quindi diciamo un grafico a candele giapponesi scritto e non rappresentato appunto in candele giapponesi semplicemente scritto i valori di tutti i giorni quindi un grafico daily del massimo, del minimo dell'apertura, della chiusura e dei volumi torniamo quindi sulla pagina principale del sito quindi clicchiamo sulla scritta Cryptocurrency Market Capitalization torniamo qui ci sono ancora magari qualcosina da vedere possiamo andare a vedere innanzitutto l'ordine qui è messo in base alla capitalizzazione totale potete modificare l'ordine semplicemente cliccandoci e quindi verrà ordinato quindi ora la classifica verrà quindi ora la lista verrà ordinata in base alla crypto che ha un valore unitario maggiore quindi ora il bitcoin che vale circa 14.000 dollari poi segue il bitcoin cash segue Dash, Ethereum e così via o viceversa ricliccandoci va in ordine inverso quindi dalla meno costosa alla più costosa potete fare questo ovviamente sugli scambi di volume nelle ultime 24 ore sulla quantità di token disponibili in circolazione al momento e così via vi consiglio di lasciare Market Capitalization che è l'impostazione sua se cliccate qui su USD potete cambiare il rapporto quindi ora è tutto in rapporto al dollaro potete cambiare tutto in rapporto al bitcoin o tutto in rapporto a Ethereum se andiamo su trending potete andare a vedere tramite questa pagina Gainer & Losers quali criptovalute hanno avuto negli ultimi 24 ore il maggior incremento e quali criptovalute hanno invece avuto il maggior decremento quindi qui la criptovaluta che ha perso di più negli ultimi 24 ore ad esempio è la Mutual Coin che ha perso il 40,50% e la criptovaluta che ha avuto il maggior incremento è Slevin che nelle ultime 24 ore ha fatto il 403% questo può essere interessante se dovete tenere d'occhio una criptovaluta in particolare ad esempio se una criptovaluta che voi sapete ha un bel progetto ha un bel team ha una bella roadmap è veramente interessante e vedete che sta scendendo tenetela d'occhio perché potrebbe essere appunto un buon momento d'acquisto da prendere a parere mio poco in considerazione questa pagina diciamo delle criptovalute che salgono tanto perché come vedete sono criptovalute che un anno non valgono nemmeno un centesimo di dollaro figuriamoci questa che vale 0,0006 cioè il nulla qui veramente basta un investimento di 1000 euro per farli fare il 400% per cui da prendere veramente poco in considerazione tenete sempre a mente il volume ok? quindi 675.000 dollari di volume nell'ultime 24 ore è veramente poco sicuramente dobbiamo concentrarci su volumi più interessanti altra faccio vedere l'ultima cosa e poi vi lascio se andate sempre da questo menu come guardavamo prima ora eravamo su trending se andate su tool se andate su historical snapshot potete in base all'anno quindi qua 2013 2015 2014 poi in base al mese quindi in base al giorno avere uno screenshot del sito della coin market cap di quel giorno quindi ad esempio 2013 il 24 novembre bitcoin era 760 dollari seconda per capitalizzazione mondiale era litecoin che stava a 10 dollari poi c'era ripple che non costava neanche un centesimo di dollaro e poi c'era peercoin namecoin e così via quindi se volete farvi un po' male potete utilizzare questo strumento mentre se andate su global charts su global charts avrete il grafico totale dell'andamento della capitalizzazione di tutte le criptovalute qui ora il time frame è impostato su wall quindi parte dal 2013 poi ovviamente potete scegliere gli ultimi 7 giorni se preferite oppure impostate voi la data e qui vi fa vedere la totale capitalizzazione quindi questo numero qua i 656 miliardi a grafico a linea qui è totale il grafico che avete sotto invece è la coin market cap escluso il bitcoin quindi qui non c'è il bitcoin in questo grafico vi potrà sicuramente servire per fare un confronto vediamo che infatti se prendiamo un grafico a 3 mesi quindi gli ultimi 3 mesi la capitalizzazione mondiale delle criptovalute con il bitcoin siamo circa sui massimi precedenti ok adesso ora siamo qui il massimo precedente era questo se escludiamo il bitcoin il mercato sta andando molto meglio il mercato escludendo una criptovaluta che è un po' in flessione sicuramente prende un po' più di aria fresca infatti vediamo che ha abbondantemente rotto i massimi e si sta spingendo verso massimi assoluti sempre crescenti che sta disegnando di ora in ora quindi qui avete il grafico totale e qui avete il grafico totale escluso il bitcoin per il sito di coin market cap è tutto per cui se sentite magari il nome di una criptovaluta e volete sapere cos'è volete avere informazioni su quella criptovaluta vi basterà venire su questo sito cercare o la sigla del token oppure il nome del progetto su search currency andate sulla pagina di quel progetto lì otterrete molte informazioni dalla quale poi potrete andare anche sulla pagina del sito a vedere gli ultimi tweet il grafico sapere dove si acquista dove si vende per cui tutto quello che vi serve per iniziare è sicuramente sapere imparare a sfruttare questo sito per oggi è tutto vi saluto ciao ragazzi